Si parla di sport, cinema, arte, web, poesia e tanto altro. Il Consiglio regionale del Piemonte conferma la propria presenza alla 27esima edizione del Salone del Libro dall'8 al 12 maggio all'Ingotto Fiere di Torino, con un programma particolarmente ricco e variegato. I visitatori possono conoscere l'attività istituzionale e culturale dell'Assemblea Legislativa Piemontese attraverso le numerose pubblicazioni in distribuzione presso lo Spazio Piemonte nel Padiglione 1.